Musica Amici miei bentornati qui su Mandra Gaming il canale più post apocalittico di tutto il tubo ci apprestiamo oggi a fare la nostra seconda partita con Black Ops 2 modalità zombie ma questa volta faremo la modalità di sopravvivenza quindi vediamo se quanti round da quello che ho capito riusciremo a sopravvivere poi credo ci sia anche un'altra modalità ma la faremo probabilmente nel prossimo video scrivetemi nei commenti poi se volete che faccia anche l'ultima delle tre modalità credo che sia quella a otto giocatori anche se onestamente non l'ho trovata nelle opzioni ovviamente il Mandra in questa modalità di sopravvivenza non ci ha mai giocato quindi perdonate il vostro povero Mandra che non sa quello che fa ma lo fa per voi ragazzi lo fa perché così ci facciamo due risate insieme e vi ringrazio sempre per l'affetto che mi state dando giorno per giorno e spero di riuscire a fare sempre dei video che vi possano piacere giorno per giorno e sempre di più ovviamente quindi più la nostra famiglia si aumenta quindi più iscrizioni ci sono e più ci divertiamo insieme quindi ragazzi se il video vi piace iscrivetevi lo dica all'inizio piuttosto che alla fine round one ok ammazza qua tutti i vestiti fighissimi noi non siamo fighi mi sa e chi è questo? questo è il nerd versione figa? quest'altro? io con gli occhialini allora qui non ci abbiamo una lira benissimo chi è che spara? andiamo subito a dare una mano allora tu tu via bravo spara tu però è meglio che te do una mano perché te vedo un po' in difficoltà allora ognuno ha una finestra come funziona qua? allora qui non c'è nessuno raga chi è che urla? mmm cos'è questa musica rock? è finito il primo round? è finito il primo round raga bene così questo è scemo è tutto scemo questo allora qui sono già morti tutti allora ognuno ha una finestra me sa vero? però qua non c'è nessuno raga vieni qua che ti spara a dovere ottimo bravo tu rimani a bocca aperta eh aaaaa ok noi facciamo un po' di giri non parla nessuno raga questo è un vero team di professionisti e soprattutto la porta si è aperta quindi devo andare di fuori? no 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 torno subito dentro perché non ci piace bravo uccidilo tu oddio ma non si può chiudere sta finestra? si sta finestra via via brutto vecchio dottore oddio uno zombie ehm kamikaze ecco bravo bruciate tutti cioè io ho 1200 dollari posso spendermeli subito? io li spendo tutti quasi quasi cos'è sto carillon qua? vabbè povero carillon triste uh chi è che esplode qua? cos'è qui? un'arma casuale vai dammi un qualcosa di tosto ma che mi ha dato una scimmia urlante ma dimmete oddio no non voglio morire ma che si è aperto un coso di lava qua? ma voi non siete normali oddio aiuto no non ho armi sta zitto doppi punti e allora si sono a doppi punti oddio io devo prendere un'arma devo prendere qualcosa come faccio? dammi dammi qualcosa dammi qualcosa niente che famotti qua che siete io non c'ho più armi come faccio a ricaricare le mie munizioni? aiutatemi datemi delle munizioni ah che ha detto? ah c'è no oddio mi sono tornato le munizioni questo questo è bene ragazzi siamo sopravvissuti al terzo round questo video potrebbe durare millenni chi lo sa magari faccio la migliore prestazione mondiale di tutto il globo terrestre dai dammi dammi un'arma tu tu che c'hai tanti soldini no? niente non mi dai niente vabbè sei simpatico sei chi è che si sta suicidando? attento che nome passate mezzo fai come loro i kamikaze dove sono nati i miei amici? sono usciti tutti fuori vedi poi che succede andà fuori che te bruci eh non te devi bruciare amico mio ragazzi in chat non parla nessuno proprio un vero team di professionisti al seguito allora io ho 810 dollari prima vorrei ricordarvi che ho preso una scimmia urlante a 950 dollari veramente un pre... magari è un kamikaze davvero questo cioè la bomba incorporata vabbè questo con due corpi ne ha ammazzati due poi mi spieghi come hai fatto gentilmente grazie dai riparate tutto spendete i vostri sudati risparmi che io non c'ho una lira qua devo comprare delle armi uh vai no non aprire le nostre grade non farlo non ti permettere no 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 alla 990 dollari carpintiere 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 oh non esplodere via ma perché non muori? eh grazie eh oh andiamo a prendere subito la nostra superarma ti prego fai che sia una superarma vai una superarma vai vai ottimo vedi che ho preso sto giro e chi me ferma a me? non me fermerà nessuno raga non me fermerà nessuno allora si possono riparare le grade? sì che si possono riparare vediamo un po' questa è già piena uh chi è? non me non me mozzicate guardate che io sono più brutto da umano che da zombie fidatevi grazie si può riparare questa grata? sì ma non la ripariamo vai ma mo c'è un'arma seria eh regà mo c'è un'arma seria non uscire da lì eh da sottoterra esci ma che zombie sei? ormai all'istante agna 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 ormai gli zombie spaccano le barricade ed entrano dentro mica eh ormai c'è uno zombie che esce da sottoterra ma che discorso è? attenzione si tuffa oh e uccide tutti tramite la la fitta vegetazione alta mezzo centimetro fittissima bravo bravo ripara doppi punti a me quando dici doppi punti mi casi da morire oddio mio amico ah sparagli bravo qui ragazzi si fa sempre più bruciante la situazione oh non mi toccare non mi toccare oddio qua mi stanno accerchiando raga aiutatemi man in black the man in black no 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 oh yeah vai vai ricarico chi è che sta ribrando dai la ribaro io dai dai spendo un po' di soldi io va non vi preoccupate quarto round superato ragazzi e qui si fa sempre più dura si fa sempre ecco dura soprattutto bruciata si fa attenzione ma chi è che urla tipo civa al rio ragazzi qui è pieno di lava non possiamo andare ma non fa niente chi è qua via andate via cos'è questo kaboom è simpatica sta voce tu rimani dentro lol tre snipers in a row hai preso tre fucili da cecchino di fila vabbè a me piace tanto sta arma invece voglio questa voglio questa perché fa tanto male eeeh non toccate i miei amici amico mio vieni qua ti aiuto io vai prendi questa punturina pim e adesso vai alzati e cammina man in black chi è questo ma chi è ah ma sei tu ma non dovevamo vederci più via via non toccate le nostre barricate uh animaccia amico eh tu dai metti da una mano eh eh boom headshot zombie shot zombie headshot ma quanta ce n'hai oh allora ragazza eh torna giù nelle profondità becca sta ahia non scherzavo pieno carico grazie amico mio oh ma che te urli muori quinto round superato ragazzi quinto round superato pretendi premuto f per ricostruire la barriera io non ho capito ancora quali sono i miei soldi lì a destra ma sono i miei soldi o il mio punteggio chi è stasi muori rimani giù rimani giù grazie un mio amico un mio amico sta lì bravo bravo chi è si sta alterando pure qua oh ragazzi guarda che fare le pulizie le pulizie natalizie qua eh mica è facile eh bisogna segare un sacco di zombie bisogna riparare le barricate e bisogna spendere i soldini bisogna fare attenzione pieno carico al pieno carico bisogna fare eh dottore dottore eh si faccia curare e chi è qua rimanete via andate via non mi toccate non mi toccate essere i malvagi chi è chi è è tutto sto casino per morire subito due secondi dopo non ti sembra un po' da esagerare eh attenzione chi è quello chi è quello è un pazzo oh vattene bravo io consiglio a voi zombastri di non toccarmi perché la mia pelle è pelle di porco cioè nel senso proprio è una è una pelle che al tatto è è rugosa è è schifosissima credi uh amico mio vieni qua ti salvo io ecco guarda per venire a salvarmi sono pure bruciato pensa di quanto quanto ti posso essere amico chi è qua ripara ripara dai su spilorcioni riparate le grate chi è oddio no aiuto salvatemi salvatemi sesto round grazie amici miei grazie mi ringrazio parliamo subito grazie saltiamo la lava ragazzi ragazzi sta sopravvivenza le dura le veramente dura vieni qua muori muori zombarello ta buono anche tu eh dai ripariamo ste grate forza sbrigati chi è chi è che deve essere uh ha sciroccata boh non ti scalmanare troppo ah ah no 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 uh uh andatevene l'anima ascia vostra dovete sparire oh questo con braccio che gli esce fuori ma dai su dottore quante volte le ho detto che non deve ritornare ne ho già dato le medicine carpettiere ma perché lo urli così il carpettiere ok quel bonus credo ci abbia riparato tutte le barriere bravo mandra hai la velocità di cervello pari a quella di un crescita australiano eh eh no eh appena riparate ah 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 no il mandra si sta imparando ragazzi cazzo ammazza uh quanto ma so tirata uh il mandra si sta imparando e niente raga io qua mi sa che mi mangiano mi sa che mi mangiano proprio uh non mi tocca battene help aiuto aiuto aiutami johnny aggiutami aggiutami thanks ok vediamo un po' hmm chi è questo che è più grosso no cioè solo il vocione più grosso guarda muori in silenzio grazie amico mio grazie grazie non si fa non si fa ragazzi questo questo round sopravvivenza ha del potenziale ragazzi abbiamo del potenziale aia per entrare nella storia nella history di youtube come il canale che ha avuto il video con più round sopravvissuti in assoluto ben otto ah 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 non toccare il mio amico non toccate oh mazza quanti siete niente raga io ma io ma tiro troppo appena dico un qualcosa di positivo sto per terra è quello il problema aiutami 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 aiutatemi aiutatemi sono troppi sono troppi come here eh ho capito e dove siete troppi niente raga game over sei sopravvissuto per 9 round ragazzi 9 round non sono non sono male dai per essere la prima volta ho fatto anche troppo bene eh 60 uccisioni penultimo sto giro ragazzi penultimo non ultimo e quindi ragazzi io spero che di far meglio la prossima volta se il video vi è piaciuto poi ne farò un altro e quindi cos'altro dire se il video vi è piaciuto ragazzi mettete mi piace iscrivetevi eh io vi ringrazio ancora per tutto l'affetto che mi state donando per tutte le domande che mi state facendo e tutti i consigli che mi state dando io spero di continuare sempre così e di migliorare e buona giornata ragazzi alla prossima